musica davvero Argus quindi oggi tocca andare a ammazzare Argus e vabbè vediamo un po' l'amata sta ancora là e ancora non si rianima va bene ok caro agro andiamo andiamo a cercare il quindicesimo colosso da ammazzare e vediamo un po' dove gaspita sta dove stai ah di là ok segna di là beh ok andiamo di qua va o meglio proviamo per di qua poi tocca vedere se la strada è giusta qua ci si perde la grande no no segna proprio di là ok andiamo un po' la strada è questa qua segna là eeeh dove gaspita sta sarà là in mezzo a destra boh probabilmente oh un falco che figata vediamo un po' passiamo per di qua va mamma mia che figata le cascate veramente che figata di gioco poi anche il fatto di essere localizzato in italiano veramente insomma incredibile questo shadows questo shadow di colossus allora vediamo un po' la strada è quella giusta ok segna di là bene ok va che c'è un tempietto ok che l'abbiamo ci abbiamo già detto le breghierine andiamo di qua va coraggio agro l'avrò detto forse cintana di volta che sia wonder sia agro mi ricordo molto a tre iudi della storia infinita vediamo un po' di qua si altro punte occhio a non cadere che c'è sfracelliamo per terra ok ecco là appena detto poi vediamo dovrebbe essere di qua si si segna proprio di qua va bene ok e via più veloce della luce qua dentro dentro questo bosco sto per dire bosco atro dell'hobbit però no vabbè dai va bene così fatto veramente in modo spettacolare questo shadow dei colossus dove gaspida dove segna si segna lì però eeeh si tocca buttarsi giù per la gola no dai vi prego eh ma ci sarà un passaggio qua cazzarola no porca la miseria c'ha boia eh di qua vediamo un po' no di qua direi di no qua ci sfracelliamo proprio porca la miseria mmm però segna di qua segnava di qua qua c'era già un colosso sinceramente di là pure comunque pure il bosco è fatto veramente bene sarà di qua non mi dire che tocca c'è un passaggio segreto uuuuh vai che abbiamo trovato un oggetto va preso bene così bene così però qua non vedo nessuna via cazzarola porca la miseria c'ha boia ma non è che c'è qualche galleria no qualche caverna qualche cosa no ma oppure sta giù in fondo forse giù in fondo a destra vediamo un po' va agro vieni qua che abbiamo sbagliato strada va però abbiamo trovato un oggetto non so che oggetto sinceramente allora vediamo un po' ah ma forse di qua no ma qua ci siamo già stati cazzarola no no non dovrebbe essere di qua no no qua ci siamo già stati anche perché non segna no sto per dire non segna laggiù però in realtà segna dove segna eh segna segna là boh forse bisogna andare un po' più giù vediamo un po' vai agro di qua di qua coraggio e non ti incazzare dai su ma di qua nemmeno ma dove caspia siamo venuti porca miseria mi sono veramente perso allora vediamo un po' ah ok dall'altra parte del bosco ok vediamo un po' ma perché qua non dovrebbe essere perché ci siamo già stati poi cioè boh allora andiamo un po' rientriamo di qua in questo bosco poi dovremmo girare a sinistra tra un po' ok ok vediamo un po' forse abbiamo sbagliato ponte va anche se segnava da questa parte qui non sa boh vediamo un po' magari sta più giù da un'altra parte vediamo un po' vediamo un po' subiamo dal ponte va qua nelle zone desertiche e vediamo un po' vediamo un po' oltre a passare un tosto roccione vediamo un po' che caspia chi sta vai agro così più veloce della luce dai dai amico mio dobbiamo andare a trovare questo penultimo colosso li vediamo un po' vediamo un po' ok là forse dovrebbe essere la va vai così oltre a passiamo questa duna vai così a cannone amico mio ok mazza che salto grandissimo va che ci sta un tempietto oh buono così fammi pregare buono ok bene bene pregato vediamo un po' ci sta qualche lucertola a queste parti qualche lucertolina ci sta eccola là eccola là vediamo un po' se riesco a beccare dov'è andata dove stai non mi spaventare ne cazzarola eh si sta là vabbè l'abbiamo persa va vabbè ok peccato perché agro tu caspia vai agro vabbè potremmo aumentare un po' la resistenza vabbè dai pazienza occhio agro ecco qua tocca andare di qua questa è la città quella che diceva dormin e da due caspia si entra però qualche caspita altra entrata boh proviamo qua va proviamole un po' tutte ah ok bene eccola qua bene bene così grande agro si intrufola grande ottimo bene così finalmente siamo dentro bene così ne vediamo un po' entriamo qua così porca la miseria che scarinata però spettacolare niente incredibile questo shadow dei colossus ok di qua porca la miseria che scarinata grasse e quella che è un'anfora gigante no 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 forse una colonna porca la miseria ok dove sta boh non lo so proseguiamo va colosso dove sei argus eccola l'ho chiamato eccola eccolo porca la miseria quanto è grosso eccola eccolo porca la miseria ci abboia porca la miseria iniziamo a correre va porca la miseria tiriamo fuori l'arco va stai incazzato no promo ti incazzi tieni tieni beccate questo va così oppela occhio stella porca la miseria porca la miseria bene così entriamo qua così bene così dove stai dove stai ti è la ti è la no tu scappi via qua stiamo qua ti è ti è beccate questo beccate quest'altro così 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 oppela ok zoom qua ok bene così ok grande wonder bene così saliamo qua e saliamo di qua vediamo un po' dove stai? stai lì? ok oh ecco là il segno va porca la miseriaccia boia cazzo la sfonda tutto il tutto il tutto il tutto il tutto il tutto il ponte mortacci tua mortacci tua ok ok vai che ci siamo occhio 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 vai così occhio no cazzarola te brucia te sta a bruciare tacci suo quanto è potente porca la miseria e pregni questo qua seconda botta va ti è ti è ti è terza botta vai così da questa metà vai così occhio vai così occhio 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 se gira il bastardo dai che è quasi finito diet reggite vai così ok cao tocca trovare un altro punto debole no non ci scrolli d'osso mortacci tua cazzarola induire su punti vitali eh ho capito no cazzarola siamo ricaduti porca la miseria poi vediamo un po' altri punti vitali dove caspia c'è là occhio che carica tacci tua maledetto dai che siamo qua dai ok tocca risalire dentro qua ok vai così vai così occhio dai che gli manca poco dai che gli manca poco wonder dai tocca provare tocca trovare scusate un altro punto debole che porca la miseria uno l'avevamo di due atomo chissà dove sarà il secondo o chissà quanti caspia ce ne avrà vediamo dove caspia c'è là un altro punto debole di qua ah c'è un po' di sangue là vediamo un po' cosi 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 ti fa male eh ti fa male ok ok vai che ha mollato pure porca la miseria dove sta dai coraggio dai argus ce sei dai siamo qua no cazzarola no cazzarola dai dove sta incazzata ecco che si carica no procede dal cazzotto cazzarola no mi frega niente la gamba dai carica un cazzottone dai in su ti ho fatto male al braccio eccolo ok ok vai così reggiti no cazzarola ma che ci risiamo reggiti reggiti wonder vai così vai così iatta iatta e anche il penultimo colosso è andato la valle dei caduti trofeo guadagnato bene ho fatto pure la rima mamma mia pure argus è andato mamma mia che boss fight pure questa incredibile come al solito il nostro wonder viene preso dall'ombra del colosso morto viene poi è una sorta come dire risuscitato oddio oddio ti sente la voce del ragazzo oddio 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 ok Schioppa così Bene bene Quindicesimo colosso abbattuto Mamma mia incredibile Incredibile Vediamo un po' se magari Lì la ragazza in qualche modo Riesce a destarsi Mi sa di no Vediamo un po' cosa dice Dormin Infine l'ultimo colosso Il rituale è quasi terminato Il tuo desiderio sarà esaudito Ma ora c'è qualcuno Che ostacola il tuo cammino Fai in fretta Non c'è più molto tempo Ok C'è qualcuno Sulle nostre tracce L'abbiamo già Già sappiamo più o meno chi è Che comunque l'avevi visto Qualche episodio fa E va bene Questo ennesimo episodio Di Shadow of the Colossus Termina qui E sta avendo una boss fight Incredibile ragazzi Evidentemente epica E così come sarà Abbattere l'ultimo colosso Credo sarà una cosa Avendo incredibile Io vi invito a lasciarmi Un bel like Se è piaciuto questo episodio Cercare di arrivare a 10-15 likes Ragazzi Coraggio So che ci potete fare Un commento Una condivisione Con i vostri amici Che fa conoscere Il lungo e largo Giappo Gamer E io vi ringrazio E vi abbraccio Uno a uno Per essere arrivati Fin qui Dal vostro Giappo Gamer È tutto Seguitemi Sulla pagina di Facebook Mi raccomando Dove mi seguono quasi Mille persone Sono anche Mi trovate anche su Instagram Dove mi seguono più di 600 persone E su Twitter Dove mi seguono anche più di 2000 persone Per cui insomma Dai Sto iniziando a essere seguito Un po' E ovviamente Mi fa piacere Insomma Bene così Dal vostro Giappo Gamer È tutto Ripeto Sayonara Intanto mentre Wanderer si controlla Si è appestato qualche cacca Sayonara E ai prossimi episodi E ai prossimi episodi